Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, e consentitemelo anche finalmente, vi presento Bloodborne, il gioco da tavolo, edizione italiana che vedete qui davanti in questo gioco, full cooperative, titolo della Cmon ed edizione italiana, localizzata in italiano, che vedete qui davanti a cura di Asmo d'Italia, che io ringrazio immensamente di cuore per avermi offerto la scatola di base per la recensione. Ed è ragazzi un gioco bellissimo, per me il Souls-like più bello mai uscito, ma anche più della saga di Dark Souls o di Sekiro, e so che tanti la pensano come me, e il diretto successore del gioco da tavolo a Dark Souls, che qui dietro alle mie spalle con espansione vi presenterò in un prossimo video, che secondo me va a espandere il contenuto del gioco, ma soprattutto il regolamento che viene rivisto, rimodernizzato e secondo me anche corretto in tante altre lacune che aveva quello non perfetto del vecchio Dark Souls, in un regolamento, in un gioco secondo me perfetto che per gli amanti di Bloodborne non deve assolutamente mancare. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Bloodborne, il gioco da tavolo, edizione italiana di Asmo d'Italia, è un titolo completamente cooperativo e solo cooperativo da uno a quattro giocatori, quindi si può giocare tranquillamente anche in solo, e una cosa che ho apprezzato tantissimo di questo gioco, è che anche se giocate da soli, le regole si adattano, ovvero la difficoltà si abbassa e dovete usare soltanto un cacciatore, un avventuriero, non è come Zombicide che giocate da soli, li dovete usare tutti e sei. Alien, Another Glorious Day in the Corps, bellissimo, però dovete usare tutta una squadra, qui no, qui ne usate uno solo, quindi anche da giocare in solo c'è da fare poco setup, mettiamola così. L'ambientazione è quella che abbiamo visto nel gioco per la Playstation, che è qualcosa di veramente spettacolare, e mi sembra di aver sentito che lo vogliono portare anche su PC, come porting non diretto ovviamente, se no avrebbe anche un po' una schifetto, cercheranno di portarla anche su PC e non vedo l'ora, ma già comunque mi ci sono sfondato con un casino di ore su Playstation, perché secondo me è il Souls-like più bello mai uscito, e tante persone la pensano, come me sono in errore anche Sabaku, disse al suo tempo che era il suo Souls-like preferito, perché Dark Souls e le opere di Miyazaki sono sempre cupe, come ambientazioni molto criptiche, anche da cercare di tradurre questa ambientazione oscura e tutto quanto, è anche difficile un po' da comprendere, anche perché non viene narrata, ma viene un po' vista a colpo d'occhio, dovete cercare voi di interpretare quello che state vedendo. Ma questa è veramente oscura da morire, cioè questo villaggio completamente avvolto da queste specie di demoni, o comunque di esperimenti durante la caccia, questi cacciatori che girano di notte, cercano di dare al rogo queste creature, cioè è veramente bello e molto evocativo, personaggi come Padre Gasconi, che viene ritrovata anche in questo gioco come uno dei boss che dovrete fronteggiare, o anche la Cleric Beast, insomma, che sono veramente evocative, al massimo a livello di una cattiveria disumana, che a me piace molto e mi rimanda anche a cose tipo Bram Stoker, Dracula e simili. Il gioco è un titolo cooperativo, è molto veloce come regole, anzi l'ho trovato molto più veloce, ma forse non tanto veloce quanto snillito da regole superflue rispetto al precedente, a Dark Souls, e è uno spettacolo, a livello di miniature, a livello di dettagli, a livello di idea, ma soprattutto a livello di rigiocabilità. Ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, immensa, cioè guardate le mani, è veramente grandissima, anche perché il contenuto è spettacolare, è pieno zeppo di miniature, di tile, di gioco, di carte e quant'altro, e il disegno sopra con il cacciatore classico è veramente spettacolare, bellissimo, mi guarda molto anche la colorazione. Apriamo. Regolamento, tradotto tra l'altro benissimo, non ci ho trovato rifusi, né errori, né niente, che ci fanno vedere tutte le miniature, la componentistica che c'è all'interno, e poi la modalità campagna, perché è una storia collegata e giustamente dovrebbe essere così, e vi fa vedere tutto quanto il setup iniziale e come utilizzare le carte per fare gli attacchi, le difese, turno dei mostri e poi i tile di gioco per come vanno posizionati. È un regolamento facilissimo, veramente basta una lettura. E poi vedete tutte quante le fustelle con i token, che vanno a rappresentare i punti ferita, scrigni delle missioni, come vedete oggetti che si possono raccogliere, NPC e poi quant'altro, tile di gioco, aree, come vedete divise da queste strisce bianche, un po' come su Zombicide per fare le vostre azioni di movimento, tabella della missione, dove vanno messi sempre i tre nemici che verranno selezionati dalla missione, più mazzi capitolo. E qua sotto abbiamo le schede, che sono praticamente tutte differenti come attacchi, comunque le schede dei vari cacciatori, che poi sono double fast, perché girando dall'altra parte abbiamo la versione modificata dell'arma. E poi tutti quanti i mazzi di carte, che sono mazzo, carte dei mostri, con i punti ferita e i danni che vi fanno, le azioni del nemico, perché i nemici faranno azioni pescando dal mazzo delle azioni, equipaggiamento che potete andare ad utilizzare e tutto il resto delle carte. In conclusione Bloodborne, il gioco da tavolo, è perfetto per tutti gli amanti della controparte videoludica, per tutti gli amanti dei Soulslike, ma lo consiglio veramente di cuore anche a tutti coloro che cercano un gioco da tavolo dungeon crawler con una bellissima sfida, perché comunque è medio-alto come difficoltà, non è così semplice per dire le missioni, però che si adatta anche al numero di giocatori che siete, perché comunque se siete meno giocatori o un giocatore soltanto, usate un solo cacciatore e i mostri sono meno o comunque più deboli sul campo. Quindi alla fin fine si affronta bene, come anche il gioco per computer, anche da soli. assolutamente passato a pieni voti, consigliato a tutti gli amanti, ma anche del modellismo e della pittura, perché i modelli sono veramente spettacolari, e ancora una volta ringrazio di cuore Asmod Italia per avermi offerto questa copia per la recensione. Ragazzi, se vi è piaciuto il gioco del computer, se era meglio, della PlayStation, non vi deve mancare, assolutamente. Se cercate, comunque non l'avete giocato, ma cercate un bellissimo dungeon crawler, prendetelo a scatola chiusa e sono sicuro non ve ne pentirete, anzi comprerete anche tutte le espansioni. Questo è il primo video dove non sponsorizzo nessun negozio per board game, perché stiamo cercando appunto un nuovo negozio partner con cui collaborare, sto valutando un po' di opportunità. Quindi se lo volete acquistare comunque vi dico nei migliori negozi, perché comunque i titoli dell'Asmod Italia si trovano in tutti praticamente i negozi che trattano giochi da tavolo, o comunque la maggior parte. Siamo alla ricerca di un nuovo negozio sponsor per giochi da tavolo, quando l'avrò, insomma, vi dirò precisamente con un link in descrizione dove andarla a comprare. Fatemi sapere cosa ne pensate e non vi deve mancare. Veramente questo non può mancarvi assolutamente. Ciao ragazzi, alla prossima!